Because you too scopate mm mmm mmm l'uomo dellezette mmmhhhh ahhh che godura che quando vuole fare un bagno nessuno Your e i e i e. Do a babba. Praticamente! 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 BASTA! Cranito! Span! Che? Qualcuno sta dicendo... Riconoscete questo personaggio? Forse è stato un pirata praticamente... Praticamente è la cosa più stupida del mondo! Praticamente non fa schifo, è molto bello! Sei un brutto fungo! A fine, ormai è il momento di volare! Andiamo nel bar nuovo privato! E qui si è collocato Miss Perry! Funziona? Sì, Miss Perry! Funziona! Perché se il menù non è molto approvato... Certo, ovviamente grazie perché sono... Inclusivate! Bene, Cranito Span è stata creata dal pirata... Ah, lo sapevo! Il comprare delle grandi frate è un pratica mese al 100%! Che schifezza! Voglio solo una bibita! Bruta par-trac! Sì, però questa è una ferna dall'acca! Aiuto, è terribile! Hai ragione, pochi! Ritona la pandemia del praticamente! Mi dicono le parolacce! Era solo per dire! Sì, ma il drac! Ragazzi, pregatteli! Buona fortuna! Buona fortuna! No! Danbo! Hai le caramelle nel suo... Ma cosa? Sì, sono bagnato! Voliamo! Puntiamo! Sì! Siamo i bellissimi! Go! Bene, il pirata praticamente osserva gli... Vediamo che cosa ha apparato. Francesco! E' bene? Certo, perché no? Ti piace lì? Il canale YouTube di Franco, Francesco e Francesca? Ha ordinato la mia granizza? Certo, vediamo se... Franco e Francesco! Beve la mia granizza praticamente. Peria, blu e verde! Vedi che hanno la granizza il pirata praticamente? Sì! Salve, vorrei una granizza, grazie! Certamente, cara! Tieni, cara! Grazie! Bevete questa granizza, bevete questa granizza! Lo evete 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 questa granizza! E perchè, scusi? E perchè c'ha la sostanza brutta, come... Praticamente! Ah 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 ah! Finalmente! Conquisto la spiaggia di Cartoonville! Dopo aver fatto un parco giochi! Io conquisterò la spiaggia di... Di Cartoonville! Con queste eroine stupide e irrascite! Praticamente! Sto per conquistare il mondo! Nooo! E tu! Finata praticamente! Beccati questo! Csss! Aiii! Super calcio super defralmante! Csss! 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 Antigranizza, patatine, patate, zucchi, imprevante, eccetera eccetera! Un po' di più... Grazie, Bore! Io devo distruggere questa noia! Quel tizzo non lo può spremare! PASTA PASTA! Musica! PASTA! Grazie a tutti.